Buonasera amici di Bet Italia Web, è tornato in Sportusa News & Tips, ieri non è andato in onda perché praticamente ci hanno rinviato questa sera l'attesa a gara 4 dei playoff di MLB tra New York Yankees e Houston Astros quindi c'era solo l'ho che non abbiamo registrato, oggi in compenso c'è una serata pazzesca per gli sport americani inizia la week 7 di NFL col Tuesday Night, si gioca un paio di partite di college football week 8 c'è appunto gara 4 tra Yankees e Astros per i playoff di MLB e continua la stagione di NHL con 9 partite quindi parto subito, bando alle ciance, oggi nel canale Telegram il presidente Sportusa dove vi invito sempre vi abbiamo come al solito chiesto qual era lo studio che volevate, la scelta questa volta è andata sull'NFL quindi inizierei proprio da lì con lo studio tra Denver Broncos, Kansas City Chief e le nostre idee per le scommesse ma vi consiglio di ascoltare fino alla fine perché vi darò tante bonus pick in esclusiva in regalo per gli ascoltatori del nostro podcast allora dicevamo NFL scontro di FC West che apre la week 7 di football americano Kansas City Chief al momento al comando della division con un record di 4-2 sfidano i Denver Broncos che sono terzi invece al contrario hanno un record di 2-4 anche se le franchise stanno vivendo momenti opposti i Broncos arrivano da due vittorie in cui si è rivista l'ottima difesa di Vic Fangio mentre i Chief dopo le prime quattro vittorie ne hanno perse due di fila entrambe in casa la mia top pick è Denver Broncos, Kansas City Chief under 49,5 a 1,80 il pass rush di Denver si è finalmente svegliato dopo 4 settimane di dormiveglia i Broncos hanno messo a segno 12 sec nelle ultime due compresi 7 di domenica scorsa contro i Titans mi aspetto che i Broncos riusciranno a mettere la giusta pressione su Patrick Mahomes alla guida dell'attacco dei Chief, Mahomes che non è al 100% problema alla caviglia offensivamente Denver potrebbe correre molto e fare scorrere a piacere il cronometro il controllo del tempo è determinante quando si sfida una squadra come Kansas City bisogna tenerlo molto, il possesso per dare meno chance possibili ai Chief il game plan di Denver sarà questo con la propria difesa e il proprio running game quindi under 49,5 mi sembra la scelta migliore la linea prima 50 è crollata a 48,5 io mi assesto intorno alla metà un'altra top pick è Chief meno 3 a 1,90 i Broncos sembrano aver cambiato mentalità abbiamo parlato dei problemi di Mahomes e di Kansas City ma io sulla linea di meno 3 punti con una sfida di division dove di solito i Chief danno sempre qualcosa in più gioco sulla squadra che ritengo comunque ancora migliore in attacco inoltre parliamo tanto della difesa di Vic Fangio e di Broncos ma in attacco ci sono ancora problemi grossi c'è Joe Flacco che non mi convince parlo da tifoso Ravens quindi ho sempre nel cuore Flacco per ovvi motivi che si chiamano Super Bowl lo scorso anno doppia vittoria dei Chief anche qui a My High io credo che anche con un Mahomes non al 100% il meno 3 dei Chief sia giocabile vi do anche due special pick prima marcatura field goal a 2,25 di recente i Chief contro Lions e Colt nelle partite contro Lions e Colt è stato un field goal la prima marcatura i Broncos nelle ultime 3 hanno concesso solo 3 touchdown a fronte di 7 field goal e in questo lasso di tempo hanno concesso meno del 25% di terzi down completati un dato importante anche per l'under di cui parlavamo prima i Broncos offensivamente hanno calciato 3 field goal la settimana scorsa contro Tennessee nonostante Tennessee sia tra le peggiori squadre come percentuale di conversioni a touchdown in red zone concesso agli avversari nonostante questo i Broncos hanno dovuto calciare tanto compresa la prima marcatura che è stato un field goal dalle 31 yards per Brandon McManus l'attacco rimane un problema come abbiamo detto per la squadra di Vic Fudge una prima marcatura field goal perché no a 2,25 l'ultima è una pro bet che non manca mai vado sull'inside è over 15,5 portate a 1,80 quindi gioco su almeno 16 corse del running back dei Broncos che arriva da due prestazioni esattamente da 15 portate l'una ha messo però insieme 184 yard e due touchdown nelle due vittorie di Denver dove è stato un protagonista importante nella povertà dell'attacco dei Broncos i Chief ultimamente hanno concesso tantissime portate 35 per 186 yard a Detroit in week 4 45 portate per altre 180 yard contro i Colts e 41 portate per 192 yards anche ai Texans quindi almeno 16 portate di Lindsay per me ci stanno qui su questo giocatore considerate anche l'over 69,5 rushing yard potrebbe essere un'altra idea interessante anche se tra le due preferisco le portate diamo anche due early pick poi vedete voi che uso farne perché chi mi segue sempre sa che nelle ultime settimane le early pick sono state davvero una maledizione quindi vedete se giocarle o se giocarle al contrario o se seguirmi questa volta la mia prima è Seattle Seahawks, Baltimore Ravens over 48,5 1,85 Ravens 37,7 punti concessi di media in trasferta Seattle con Russell Wilson viaggia a 3,7 touchdown a partita nelle ultime tre settimane hanno segnato intorno ai 30 punti di media nello stesso arco di tempo nessuna squadra ha segnato quanto Seattle nei primi tempi difensivamente qualcosa non sta funzionando per i Ravens che sono fuori dalla top 20 sia come rushing yard sia come passing yard anche i Seahawks sono un po' sovrastimati nella retroguardia che non è più quella di un tempo quindi anche Lamar Jackson potrà provare a combinare qualcosa in attacco per i Ravens quindi over 48,5 ci sta l'altra yearly peak, molto yearly perché qui andiamo al Monday Night New York, Jets, New England, Patriots secondo me i Patriots possono vincere in doppia cifra in questo prime time quindi Patriots meno 9,5 a 1,90 non mi faccio spaventare dall'ultima prestazione dei Jets che hanno vinto 24-22 contro i Cowboys, lì do molti demeriti anche a Dallas contro i stessi Jets in stagioni i Patriots hanno già giocato erano favoriti con meno 20,5 punti in questa sfida di FC East che hanno vinto 30-14 Brady e compagni sono ancora imbattuti arrivano da un 35-14 contro i Giants secondo me potrà essere un risultato simile a quello che vedremo in questa partita magari un po' più risicato però i Patriots sono ottimi anche nelle scommesse 44-19 ATS nelle ultime partite 4-1 ATS anche in trasferta di recente i Jets pessimi anche nelle scommesse 1-6-1 ATS in casa College Football Week 8 è già iniziata ieri 1-2 nei miei consigli è entrato l'under abbiamo invertito male invece gli handicap sul primo tempo e finale di partita vabbè oggi si giocano due partite iniziamo da Arkansas State Red Wolves contro Lafayette Regine Cajun ho due giocate da dare su questa sfida over 68,5-1,90 e Regine Cajuns meno 6,5-1,90 torniamo a parlare dei Regine Cajuns che la settimana scuola ci hanno deluso hanno perso 7-17 contro Appalachian un risultato che ha interrotto una serie di 4 vittorie per il programma di Lafayette che oggi è impegnato ad Arkansas State i Red Wolves al momento sono il 14esimo migliore attacco della nazione sui lanci più di 317 passing yard di media viaggiano a 33,7 punti a partita nonostante i soli 7 punti della settimana scorsa anche i Regine Cajun hanno un ottimo attacco specialmente su Corsa sesto migliore della nazione 282,2 rushing yard di media non uno ma tre dei migliori running back della nazione che altro dire la difesa di Arkansas State non è quella di Appalachian i Red Wolves in particolare concedono tanto su terra 215,3 rushing yard di media motivo per il quale vado su over e vado anche sui Regine Cajuns meno 6,5 l'altra partita mi prendo qualche rischio Stanford Cardinal UCLA Bruins Cardinal meno 3,5-1,90 non tutti approveranno il fatto di giocare in queste condizioni ovvero di giocare su una squadra che ha visto un taglio di linea da meno 7 a meno 3,5 perché giocherà col terzo quarterback però nel college bisogna valutare anche altri aspetti Stanford gioca in casa gioca contro UCLA che arrivano da due sconfitte consecutive e inoltre gioco su Cameron Scarlett il running back di Stanford arriva dalle 151 yard in 33 portate contro Washington la settimana scorsa nella bella vittoria dei Cardinal 23-13 contro gli Askis in una partita in cui erano sfavoriti con più 13,5 punti di handicap hanno dato una grande risposta dall'altra parte UCLA ha una delle peggiore anzi ha la peggior difesa di Pac-12 per quanto riguarda le corse concedono 162,7 rushing yard a partita la settimana scorsa abbiamo detto è arrivata la seconda sconfitta di fila dei Bruins 31-48 contro Oregon State dove erano favoriti con 4,5 punti di handicap hanno concesso 5,1 yards per portata ai viewers un dato davvero alto che potrebbe aumentare contro Cameron Scarlett e il running game di Stanford che dovrà fare un grande lavoro visto i problemi in cabina di regia con i quarterback però mi prendo questo rischio ma vado su Cardinal almeno 3,5 anche qui vi do un early pick per quanto riguarda uno dei big match di sabato Washington-Askis, Oregon-Ducks Ducks-2,5-1,90 torniamo a parlare degli Askis che come detto hanno perso contro Stanford per me possono perdere anche questa la trasferta non è semplice ma favorisco i Ducks che sono il programma migliore lo vediamo anche dal ranking nazionale sono dodicesimi mentre gli Askis sono ventitresimi Oregon dopo la prima sconfitta su campo neutro contro Auburn ha vinto 5 partite di fila punteggio complessivo che parla da solo 195-25 compreso il 45-3 su Colorado di sabato scorso partita di cui mi cruccio ancora volevo prendere i Ducks stimavo una linea intorno a meno 15,5 era invece a meno 20,5 non mi sono fidato ho sbagliato gli hanno dato più di 40 punti e ancora mi sta qua gli Askis arrivano dal 51-27 in Arizona non sono assolutamente una squadra da sottovalutare per l'amor di dio però dall'altra parte c'è Justin Herbert che è uno dei migliori quarterback della nazione è uno delle future scelte al draft e nei fell è detentore della striscia più lunga tra i QB di tutti gli Stati Uniti come partite con almeno un tee di pass a referto 34 partite di fila una striscia che potrà continuare è protetto da un ottimo offensive line guidata da Shane Lemieux e soprattutto su Oregon si parla sempre tanto dell'attacco ma che difesa 8,7 punti concessi di media un fast rush che macina il SEC una linea guidata da Troy Dyer e Thibodeau i Ducks inoltre vi do un'ultima statistica interessante sono anche la miglior squadra della nazione come punti segnati di media dai turnover 11,7 punti è un dato importante che fa anche capire l'aggressività di questa squadra anche difensivamente parlando semplicemente superiori io ci provo anche se la trasferta sarà difficile mi sono già dilungato tantissimo quindi andiamo veloci in MLB anche oggi niente free pick sul canale Telegram però io una bonus pick qui per gli ascoltatori del podcast la voglio dare allora ieri è partita rinviata per pioggia si parlava di bullpen day scongiurato il bullpen day partiranno Masashiro Tanaka e Zach Greinke allora Masashiro Tanaka 2-0 con 0,82 era come al solito cambia pelle ai playoff in 7 partite di playoff è 5-2 con 1,32 era dopo una regular season così e così contro i Twins ha lanciato benissimo in gara 1 contro gli Astros ha lanciato per 6 solidissimi inning in cui non ha concesso nulla solo una valida Tanaka come detto non ha giocato una grande regular season un'eccezione fatta per i 12 inning proprio contro gli Astros a cui ha concesso in tutto 3 run si porta 2-2 con 1,50 era contro Houston dall'altra parte Zach Greinke ha fatto l'esatto posto di Tanaka bene in stagione da quando ha lasciato Arizona per Houston ha tenuto un 8-1 con 3-0-2 era in 10 start malissima ai playoff 0-2 con 8-38 era anche in gara 1 ha concesso 3 run tra cui un doppio fuoricampo in 6 inning agli Yankees faticando in particolare contro DJ Lemieux non ha grandi numeri ai playoff in carriera è la giocata che mi piace tanto e che vi voglio segnalare è una quota che mi piace tantissimo squadra che segnerà più valide Yankees a 2-0-5 in gara 1 Greinke ha concesso 7 valide alla fine New York ha chiuso con 13 valide complessive il bullpen di Houston inoltre oltre a Greinke è stato tra i migliori della regular season ma in questa post season è calato tantissimo 4-43 era con un 290 di media battuta tutti i dati che portano a valutare Yankees più valide a 2-0-5 Yankees che giocano in casa che sono chiamati assolutamente a vincere perché andare sotto 3-1 con la prospettiva di tornare a Minute Maid Park sarebbe un bel problema per i Bronx Bomber però attenzione segnare più valide non è necessariamente detto che voglia dire vincere la partita a parte che la quota è diversa perché gli Yankees a 1-76 è un'altra cosa comunque anche in stagione quante volte ci è capitato di giocare in Moneyline su una squadra che ha segnato più valide ma poi sono le run quelle che contano e alla fine dei giochi non ha vinto quindi secondo me Yankees squadra che segnerà più valide a 2-0-5 è carina come quota chiudiamo in NHL ci aspetto un'altra giornata da 9 partite anche qui nessuna free pick ufficiale vi darò alcuni consigli così en passant mentre leggiamo mentre scorriamo la lavagna iniziamo a luna di notte Montreal Canadiens Minnesota Wild Wild non vanno proprio 1-5 di record hanno perso Toronto che ci sta malissimo Devan Dubnik in porta sempre perdente in 5 partite 4,44 gol subiti di media oggi dovrebbe lasciare spazio al backup Alex Staloc Canadiens comunque che rispondono con Price e sono favoriti pure troppo la quota intorno a 1,65 mi pare veramente bassa New Jersey Davies New York Rangers chissà se dopo 6 sconfitte da inizio stagioni i Davies riusciranno a sbloccarsi questa notte Pugdansi al Center arrivano i Rangers che dopo 3 vittorie di fila hanno perso 4-1 in casa contro gli Oilers c'è un problema per New York e in dubbio Eric Lundqvist portiere titolare potremmo vedere Alexander Georgiev al suo posto i Devils confermano Corey Schneider ma che non ha grandi numeri in questa stagione subisce più di 4 gol di media e anche loro hanno problemi di assenze sono fuori Nico Ischer e Andy Green passiamo a Boston Bruins Tampa Bay Lightning è il big match della notte tra due candidati alla Stanley Cup Tampa è ancora la favorita assoluta ma è partita meglio Boston 5 vittorie nelle prime 6 grande sfida in attacco da una parte e dall'altra linee davvero letali ma anche grande sfida tra i pali Tukarask per i Bruins 1-33 gol subiti di media e 957 di percentuale salvataggi che da adesso in avanti abbrevierò con SV se no divento pazzo per Tampa però c'è Vasilievski 2,53 gol subiti e 921 SV chissà se avranno la meglio in ottica over-under la linea è a 6 chissà se avranno la meglio gli attacchi o i portieri io tra over-under sono più per under non è una giocata anche questa ufficiale però tra le due ve la butto lì Winnipeg Jets New York e Islanders i Jets hanno vinto le ultime due partite no scusate hanno perso le ultime due partite subendo 11 gol campanello d'allarme per Connor L. Buick New York arriva dal 3-2 shot out sui Panthers e dal 3-2 overtime sui Blues oggi però non ci saranno Cizikas e De Berle per gli ospiti Jets favoriti passiamo a San Luis Blues Vancouver Canucks qui Canucks qui la quota è bassa 1,57 però io mi sento di consigliare la vittoria dei Blues in casa sono chiamati a riscatto dopo le brutte due sconfitte a Montreal a New York i Canucks arrivano da 3 vittorie è vero ma sono arrivate tutte in casa hanno perso le due trasferte in Porta ci sarà ancora il backup Demko che non ha fatto assolutamente male nella sua prima uscita però secondo me dall'altra parte Binnington e i Blues sono favoriti questa notte vinceranno Calgary Flames Detroit Red Wings i Flames hanno vinto 3-1 sui Flyers ottima prova tra i pali di David Rittik l'infermeria di Detroit è bella piena rimane in dubbio anche Danny De Kaiser Flames favoriti pure troppo con quota abbastanza bassa mai come quella di Vegas a 1.32 per la vittoria questa notte dei Golden Knights in casa contro i Senators dopo due vittorie con 11 gol segnati i Golden Knights si sono arresi nel 2-5 nel big match interno contro i Predators Ottawa è una delle peggiori squadre della Lega hanno un record di 1-4 l'unica vittoria arrivata contro Tampa fa quasi ridere questa cosa arrivano dallo 0-2 interno contro i Wild per Ottawa dovrebbe rientrare il centro arte e manisimo ma c'è poco da dire Vegas favorita ma quota davvero indecente Vegas che ha perso contro i Predators Predators che sono a loro volta sul ghiaccio di Arizona questa notte altra partita molto interessante Nashville leggermente favorita 1-80 per i Coyotes ci sarà tra i pali Enti Ranta che ha amato a fermare i caldissimi Predators che hanno vinto 3 delle ultime 4 partite grazie al miglior attacco dell'NHL 4,67 gol segnati di media inoltre in porta per Nashville ci sarà Peccarine e in forse Fossberg ma come detto leggermente favoriti i Predators chiudiamo a delay Kings contro Sabres ieri Sabres ci hanno tradito hanno perso 4-2 adana ma hanno interrotto una striscia di tre vittorie in porta c'era il backup Linus Hulmark oggi torna il titolare Carter Atton che sta tenendo ottimi numeri 1-74 gol subiti di media con 931 SV i Kings arrivano da un'altra sconfitta 2-0 contro gli Ari che insi in casa comunque bicchiere mezzo pieno se vogliamo vederla così un passo in avanti non hai segnato ma almeno hai subito solo due gol con Jack Campbell tra i pali oggi però danno favorito di nuovo Jonathan Quick i suoi numeri ne abbiamo già parlato sono imbarazzanti 6,43 gol subiti di media 793 SV anche in attacco i Kings non convincono solo 4 squadre stanno facendo peggio di LA in power play nonostante tutto questi i Sabres sono in back to back hanno qualche assenza di troppo e per questo sono sfavoriti con quota 2 che mi stuzzica però già ieri ho pagato Buffalo secondo me tra le due giocate ha più valore provare i Sabres anche questa notte sfavoriti con il ritorno di Carter atto non importa però non ho ancora sciolto del tutto i dubbi ci siamo già dilungati troppo io vi ringrazio per l'attenzione vi auguro un buon giovedì notte va davvero l'imbarazzo della scelta per gli appassionati di sport americani vi do appuntamento come sempre domani venerdì di Sport News News and Tips dove andremo a vedere anche qualcosina di Basket NBA perché si avvicina all'inizio della stagione di pallacanestro americana c'è grande attesa ne parleremo tanto domani e poi sabato è NFL Betting Room per parlare del weekend di football americano come ci deve un saluto a tutti buona serata e puntate sempre con la testa ciao 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 ciao